I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 35enne per rapina. L'uomo si trovava su una delle vie principali di Altavilla Milicia nel Palermitano quando ha strattonato la sua ex convivente di 23 anni portando le vie il telefono cellulare e non solo. Il 35enne infatti ha anche danneggiato i tergicristalli dell'autovettura di una donna che assistendo alla scena era intervenuta in soccorso della giovane vittima dell'aggressione. Una volta giunti sul posto i militari hanno arrestato l'uomo che durante il tragitto verso gli uffici della compagnia di Bagheria ha colpito con un calcio il finestrino posteriore dell'autovettura di servizio dei militari sfondandolo, gesto quest'ultimo che gli è valso anche una denuncia per danneggiamento aggravato. L'arresto del 35enne è stato convalidato dal GIP di Termini Merese che ha disposto per l'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Grazie. Grazie.